Eccoci qua anche oggi ad allenarci, Tony sta aspettando che si riscaldi la moto Ora per rendere la più aggressiva questa volta abbiamo oltre ai nostri sponsor Buongiorno Comedi Sant'Alessio Albi Superstore, anche lui di Sant'Alessio Resivolo che vende tutto, appigliamento, motocine, tutto quello che riguarda le tue ruote Oltre ai nostri sponsor abbiamo messo qualche adesivo per rendere la moto più racing Siamo quasi pronti, si stanno scaldando Ora proviamo la partenza Abbasso, devi prendere la volontà a partire Mettetevi vicino al cancelletto, vieni più vicino Ancora un po' Ancora un po' Buon Pronto? Ancora un po' Ancora un po' Ancora un po' Ancora un po' Quanto? Bravo!